Temi principali, il sovvenire alla Chiesa Cattolica e la formazione socio-politica dei giovani. Presente anche il Vescovo Armando che nell'introdurre l'argomento della serata ha sottolineato la necessità di capire come vive la Chiesa per arginare false notizie. Ha inoltre messo in evidenza l'importanza del sovvenire alla Chiesa Cattolica e di comprenderne da vicino i meccanismi. Umberto Lorenzetti, nuovo direttore diocesano per il sovvenire, ha condotti presenti nel cuore dell'argomento della serata che è stato poi approfondito da Stefano Maria Gasseri, coordinatore nazionale della rete territoriale del sovvenire alla Chiesa Cattolica della CEI. Lorenzetti è partito dalle origini e dal fondamento del sovvenire, dai vari riferimenti agli atti degli apostoli, al magistero, al nuovo codice del diritto canonico e al catechismo della Chiesa Cattolica. Il sovvenire un atto d'amore verso la propria fede rientra nella pastorale ordinaria della Chiesa. Non è qualcosa legato soltanto al fatto economico. I fedeli hanno una responsabilità molto importante, come afferma il canone 222, il denaro non è un fine ma un mezzo, in quanto le risorse a disposizione della Chiesa servono per annunciare il Vangelo. Gasseri ha offerto i presenti alcuni spunti per uscire da quei luoghi comuni riguardanti il sovvenire, fra i quali l'assistenzialismo religioso. In merito proprio al tema del sostegno economico ha evidenziato alcune parole chiave, comunione, condivisione, corresponsabilità, trasparenza e ha ribadito l'importanza dell'otto per mille. L'ingegnere Marco Boschini, direttore dell'ufficio diocesano Beni Culturali, ha illustrato alcuni esempi in diocesi della ricaduta proprio dei contributi dell'otto per mille, facendo riferimento a Villa Bassa del Prelato, al nuovo oratorio di Calcinelli e alla nuova chiesa parrocchiale di Gimarra. In particolare per quest'ultima è intervenuto l'architetto Stefano Baldini, che ha illustrato in maniera dettagliata il progetto e l'iter dei lavori della chiesa parrocchiale. Prima della conclusione affidata a Don Steven Carboni, responsabile del servizio diocesano di Pastorale Giovanile, la parola a Gabriele Darpetti, direttore dell'ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, che ha annunciato una tre giorni dedicata alla formazione sociopolitica dei giovani, una summer school in programma a Fano dal 15 al 17 luglio, un'interessante occasione di formazione per i giovani della nostra diocesi e non solo.